Fervono i preparativi per la prossima edizione della Settimana Santa. La categoria Barbieri e Acconciatori della Real Mestranza ha provveduto ad eleggere le cariche per l'anno 2018. Portabandiere è stato eletto Giuseppe Brancatello, alla bardiere Tommaso Assennato, porta Baldacchino Edoardo Cammarata. L'elezione è avvenuta all'unanimità da parte dell'Assemblea dei Soci della stessa categoria, tenutasi nella sede parrocchiale di Santa Lucia. A presiedere i lavori Aldo Buscemi, segretario Salvatore di Minuco, presente anche l'assistente spirituale Padre Giuseppe Catarinicchia. Nei giorni precedenti elette le cariche di Carpentieri e Ferraioli, Antonio Bellomo, Alfonso Pietro Bellomo e Vincenzo Tomasella. Nei prossimi giorni toccherà alle altre categorie. Domenica 18 febbraio al Teatro Comunale Margherita avverrà il passaggio di consegne tra Capitano del 2017, Giuseppe Tuminelli, e Capitano del 2018, Filippo Aleo, della categoria Calsolai, Tappezzieri e Pellettieri.